la quinta puntata di ballando con le stelle il talent show di rai 1 condotto da milly carlucci ha regalato momenti di grande spettacolo e tensione il 26 ottobre alan friedman ha attirato l'attenzione non solo per la sua esibizione ma anche per un clamoroso incidente ha fatto cadere la sua ballerina già da lini le reazioni dei giudici sono state immediate caroline smith ha sottolineato l'importanza di prestare attenzione durante le esibizioni mentre ivan zazzaroni ha definito la performance terribile o fantastica fabio canino ha criticato il ballo come brutto e selvaggia lucarelli ha messo in discussione l'autenticità di friedman la discussione tra friedman e lucarelli ha evidenziato la differenza tra ciò che si mostra al pubblico e la realtà dietro le quinte friedman ha difeso la sua performance sostenendo che lucarelli stessa gli aveva chiesto di mostrare il lato più divertente tuttavia la giurata ha insistito nel voler vedere più autenticità da parte sua suggerendo che il concorrente fosse più competitivo di quanto volesse far credere questa puntata ha mostrato come il mondo della danza possa essere affascinante e controverso con emozioni forti e dinamiche complesse tra concorrenti e giudici alan friedman è stato al centro dell'attenzione per un incidente che ha scatenato polemiche e discussioni sulle strategie e la verità nascosta dietro le esibizioni restate sintonizzati per scoprire cosa riserverà il prossimo